Il 500 è un miracolo di design italiano ma anche e soprattutto un'auto che ha cambiato la vita quotidiana di milioni di persone. Il destino tra l'altro ha voluto che proprio in questi giorni sia stata consegnata la due milionesima 500, un numero di telaio davvero speciale. Come diceva la geniale pubblicità del 2007, 500 appartiene a tutti noi perché non è solo un prodotto, non è solo marketing, è un patrimonio pubblico ed è per questo che è legittima su un francobollo della Repubblica Italiana, è per questo che è fonte di ispirazione per tanti artisti e oggi, anzi da ieri, la 500 è entrata nella collezione permanente del MoMA. Bene, essere al MoMA è un altro incredibile regalo di compleanno, un altro incredibile onore. Sapete, dal momento in cui il MoMA ha deciso di acquistare una 500 è iniziato un percorso molto interessante per noi del brand ed è proprio da questo percorso che è nata l'idea di creare queste due serie celebrative. Fuori i colori, i cerchi e i loghi sono chiaramente ispirati a quelli storici della 500 e ci parlano di identità. Queste 500 sono le più connesse di sempre con un grande schermo digitale che addirittura replica la schermata del vostro telefono. Per me in fondo la 500 non è mai stata una macchina, almeno non solo. È un oggetto di desiderio, un cult, un'emozione unica. Detto questo, se davvero dovesse essere una macchina, allora sarebbe la macchina del tempo. Un ponte tra l'automobilismo di oggi e quello degli anni Sessanta. Questa storia non ve la racconterò io perché si tratta di un cortometraggio. Protagonisti di questo corto, la 500, di ieri e di oggi, è un suo grande amico, il premio Oscar, Aden Brody. Oggi celebriamo un doppio compleanno, quello della prima 500 nata il 4 luglio del 57 e quello della 500 di oggi, nata il 4 luglio del 2007. Tra queste date e oggi passa tutta la storia moderna dell'automobile, una storia in cui 500 ha lasciato un segno profondo. Questo per una ragione precisa. La 500 non è mai stata solo un'automobile. Nel 57 e 500 fu quindi il simbolo della rinascita italiana. 50 anni più tardi, ancora 500 segnò l'inizio della nostra rinascita. Il punto di svolta della Fiat abbiamo messo nella 500 il meglio dell'Italia e lo abbiamo saldato con le nostre ambizioni e la nostra voglia di futuro. Tanti auguri a 500 e grazie a tutti voi. Grazie. Grazie a tutti.